FACE CON FACEBOOK Articol, il prototipo che Google sta sviluppando di 3D Viewer, un'applicazione che permetterà di prendere un oggetto e attraverso la fotocamera appunto del cellulare inserire l'oggetto in un contesto, quindi un contesto casalingo se si tratta di un mobile, di un oggetto che vorreste vedere già all'interno della vostra casa e volete capire se ci sta bene, insomma se potrebbe essere adatto e così via. Articol potrebbe essere l'inizio di quello di cui parlavamo qualche tempo fa e cioè di questo futuro in cui la realtà aumentata, la partecipazione, il coinvolgimento all'interno di un servizio, di un prodotto potrebbe diventare un elemento fondamentale della diffusione pubblicitaria, insomma di tutto quello che riguarda il nostro mondo qui. Un articolo molto interessante che vi consiglio di guardare, questi modelli spartani che sto utilizzando per farvi vedere una cosa. E quindi Articol è questo prototipo che sta sviluppando appunto Google e dovrebbe essere reperibile e visionabile già entro l'anno. Confermo, questo articolo non ha fatto altro che confermare la mia tesi, insomma non che io sia un profeta, ma la tesi appunto che secondo me la realtà aumentata sarà quella su cui dovremmo puntare. Certo è che dovrà essere comunque qualcosa di fruibile e gratuito da parte dell'utente. E' chiaro che poi ci dovrà essere uno sviluppo personalizzato da parte di tutti delle aziende che dovranno creare i prodotti tramite appunto insomma delle figure poligonali, dei prodotti che siano inseribili nell'app e quindi chiaramente tutto compatibile tramite i siti, tramite i propri e-commerce e così via. Se vi capita andate a cercare, anzi vi metto il link nella descrizione del video, magari un giorno potrei creare io un poligonale di me e voi tramite l'app mi vedreste a casa vostra che vi dico queste cose.